scusa scusa un attimo come fai per metterti sta macchina di merda allora non dovrei dirtelo però questa macchina ce l'ho perché ho investito in quella cosa lì no vedi che sono sono quattro muri in pratica no su quattro muri aspetta che spengo perché la benzina il gasolio costa sono quattro mura e di là c'è un'altra attività con quattro mura allora il problema in italia è che quando hai quattro mura in questo caso hai otto mura e quindi devi pagare bollette devi pagare gas corrente e le tasse che sono incombenti e quando tu hai quattro mura le istituzioni sanno dove sei i lavori che adesso vanno bene sono quelli fuori italia o comunque che non hanno quattro mura che abbiano un numero civico di riferimento al quale far arrivare una raccomandata oppure nel quale possono arrivare che so io 17 militi una mattina della guardia di finanza che ti dicono che tu stai vendendo integratori con dentro degli steroidi no e allora praticamente ti cambia la vita ti oscuro nel sito vai avanti anni avvocati fai fare analisi contro analisi salvo puoi dire che boia mi sa che ci siamo sbagliati scusa e nel frattempo tra sequestrato 150 mila euro di merce che sono scadute che chiaramente non recupererai mai più perché comunque si fa in modo che non ci sia questo è il problema ecco perché io ho una macchina di merda perché ho dovuto investire nel rendermi innocente nei confronti di determinate cose oppure devo pagare la luce moltiplicata per 4 rispetto all'anno scorso oppure il gas moltiplicato per 5 rispetto all'anno scorso il problema il problema è la mia fortuna è quello di avere dei muri di riferimento mentre nella vita adesso in italia quello che conta è quello di fare dei lavori nei quali tu alleatoriamente tu dici vuoi sapere come ho fatto ho fatto così ed entri in una catena in un circuito dove tu devi mettere i soldi che entrano in contenitori non ben definiti e che probabilmente e quindi è cambiato sono cambiati gli scenari adesso chi ha dei muri che ha investito in qualcosa che paghi le tasse faccia sì che l'economia possa girare non va bene non è non è il momento e quindi in questo senso io ce l'ho fatta io sono uno che ce l'ha fatta ce l'ho fatta a capire che non ce l'ho fatta e in questo non avercela fatta io ce l'ho fatta ce l'ho fatta a capirla che non ce l'ho fatta e quindi io adesso dopo averti detto questo ti lascio perché devo andare a fare 10 euro di gasolio perché non mi posso permettere i 15 già non me li posso permettere ragazzi non costruite niente in italia perché tutto ciò che costruite vi viene distrutto addosso ma c'è da dire una cosa io questo questa nazione non la bande abbandonerò mai perché queste sono le mie radici qua e dove sono nato sono cresciuto ci sono i miei figli e ci saranno i figli dei miei figli e io su questa cosa ci scommetto ancora cambierà speriamo di sì non tanto per me ma per voi che state ascoltando vado a far gasolio poco ma vado a far grazie per la domanda che accenderà